Resta alta l'allerta per il coronavirus nel Cilento e anche nella città di Agropoli sono arrivati i primi provvedimenti per gestire al meglio la situazione. Infatti nella giornata di ieri il sindaco Domo Coppola ha firmato un'ordinanza relativa ai comportamenti da adottare se si è transitati nelle zone del nord Italia maggiormente colpite dal virus. Il sindaco ha ordinato nel caso si sia rientrati dalle zone focolaio o se si ritiene di aver avuto un contatto con il virus, di avvisare le autorità competenti senza recarsi presso strutture sanitarie. Inoltre ha invitato anche sottoporsi ad una quarantena volontaria di almeno 14 giorni. Intanto nonostante l'allarme coronavirus la sfilata di carnevale di oggi si farà. Oggi per me era molto più facile dire no, era più facile mollare, scappare da responsabilità, accontentare coloro che hanno una visione più preoccupata. Io scelgo invece di pensare positivo, di andare avanti, di non chiudere la nostra città, convinto che la paura può fare più danni del virus. Queste le parole del sindaco Coppola che ha annunciato sui social lo svolgimento della sfilata del carnevale agropolese. Anche nella maggioranza dei comuni cilentani sono state attuate le misure preventive contro il virus, con varie manifestazioni annullate, mentre a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, su richiesta del direttore sanitario Adriano Di Vita, è stata montata dall'associazione Misericordia, una tenda sanitaria in cui verranno controllati i pazienti con sintomi sospetti, evitando loro di entrare direttamente nell'ospedale. Nella tenda ci sarà personale specializzato.